Benvenuti all'edizione del 5 settembre 2016 del giornale della giornata. Tra le notizie di oggi, un incontro tra Vladimir Putin e Barack Obama all'interno dei meeting del G20 in Cina per cercare un accordo sulla Siria. Eccovi le notizie di oggi. Caos all'interno del Comune di Roma. L'assessore all'ambiente Paola Murano risulta iscritta nel registro degli indagati dal 21 aprile 2016 presso la Procura di Roma. Il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha ammesso di sapere dell'iscrizione alla Muraro nel mese di luglio scorso. Continua lo svolgimento del G20 in Cina. All'Ox in carico di stilare una lista di paesi del mondo che non collaborano alla lotta all'evasione fiscale. Si registra un meeting all'interno della serie di incontri tra il presidente degli Stati Uniti Barack Obama e il presidente russo Vladimir Putin. Nessun accordo tra i due leader sulla Siria per una mancanza di fiducia reciproca, secondo quanto dichiarato da Obama. Continuano gli sbarchi di migranti in Italia. In Sardegna il 2 settembre sono sbarcati a Cagliari più di 900 migranti trasportati da una nave d'attilo. Sull'isola attualmente risiedono più di 4.500 migranti. Secondo quanto riporta al sito della stampa, l'Unione Europea ha stilato il quadro di valutazione 2016 dei mercati al consumo. Un documento dove tutti i paesi sono valutati in base alla convenienza dell'essere consumatore. L'Italia è maglia nera tranne che per l'editoria e il commercio di tecnologia. Massimo D'Alema si è presentato al Cinema Farnese di Roma per la nascita del Comitato per il Noel Referendum sulla Costituzione che si terrà prossimamente. L'ex segretario del PDS, nonché ex presidente del Consiglio Italiano, è stato molto apprezzato dalla folla alla presentazione del Comitato. La cronaca. Rivolta ad Airola, nel carcere minorile, nel Beneventano. Non arrivano le sigarette e i detenuti armati di piedi dei tauli aggrediscono gli agenti e le cose dentro la struttura. Per sedere la rivolta sono stati necessari agenti provenienti da altri istituti del Beneventano e di Napoli. Il totale dei danni è di 30.000 euro. Due agenti feriti. Festival del Cinema di Venezia. Una fonte forse attendibile ha rivelato al giornale Variety che il regista premio Oscar Paolo Sorrentino sta preparando un film dal titolo Loro. Si tratta di una pellicola che racconta la storia di Silvio Berlusconi. Il regista è inoltre presentato ufficialmente al festival la miniserie TV The Young Pope che durerà 10 puntate e che secondo Wikipedia verrà trasmessa in Italia su Sky Atlantic nell'ottobre 2016, oltre che essere trasmessa in altri paesi successivamente. Lo sport. Jean-Pierre Drucker ha vinto la 156 km al Caniz Peniscola della Vuelta. Nella 16esima tappa vinta dal corridore lussemburghese del BMC Racing Team, i tedeschi Selig e Arndt si sono qualificati rispettivamente secondo e terzo. Tra gli italiani più alti in qualifica si trova Sbaragli, settimo. Con questo si conclude il giornale della giornata. Ci vediamo domani sera alla stessa ora.